Credo che abbiamo posto le basi per l'avvio di serie trattative che credo condurranno al componimento delle due posizioni e della sottoscrizione di un nuovo accordo fra le due società. Così Lanfranco Massimi, amministratore unico di ASM, l'Aquila insieme a Gerardini scansa le polemiche e porta sul tavolo delle trattative delle soluzioni per i costi di conferimento dell'indifferenziato. Si parla di una rivalutazione della tariffa pagata dall'Aquila che però potrebbe abbassarsi alla crescita della raccolta differenziata. Da sempre un obiettivo strategico dell'azienda che perfeziona annualmente il servizio grazie anche alla cultura crescente della cittadinanza. Interessante la parte in cui probabilmente si prevederà una parte di tariffa incentivante cosiddetta che potrà avere appunto una scontistica o comunque un trattamento particolare se il Comune dell'Aquila e ASM miglioreranno la componente differenziata della raccolta. Questo è comunque un obiettivo della nostra compagine da tempo ovviamente e quindi penso e spero che tutta la popolazione dia una mano al Comune e alla società di proprietà del Comune stesso ed anche dei Comuni limitrofi che hanno anche loro una parte attiva in questa vicenda.